i pancake proteici morbidi con albumi sono perfetti per una colazione sana e deliziosa sono molto semplici da preparare e bastano veramente pochi ingredienti ingredienti per circa 10 pancake 340 grammi di albumi 150 grammi di farina doppio zero 150 grammi di farina integrale o di avena 205 grammi di yogurt greco un pizzico di lievito per dolci acqua quanto basta circa 100 ml iniziamo versando tutta la farina con il pizzico di lievito nell'albume e con l'aiuto di uno sbattitore elettrico iniziamo ad impastare bene aggiungiamo anche lo yogurt greco dopo averlo incorporato piano piano andiamo a versare l'acqua ora che il nostro impasto ha raggiunto la consistenza desiderata possiamo passare alla cottura prendiamo una padella antiaderente ungiamo la padella con poco olio ed asciughiamo con un foglio di carta assorbente appena la padella si sarà scaldata versiamoci sopra una piccola quantità di impasto e copriamo subito con un coperchio per qualche secondo quando iniziamo a vedere che il nostro pancake inizia a colorarsi sui lati possiamo girarlo per farlo cuocere dall'altro lato continuiamo in questo modo fino al termine dell'impasto buona colazione con i pancake proteici morbidi con albumi